qual era in estrema sintesi il contenuto della predicazione di gesù di nazareth egli proclamava la venuta del regno di dio cioè l'avvento dell'età del messia del salvatore a lungo annunciata in israele dai profeti e così intensamente attesa in quegli anni tuttavia il regno di dio promesso dai profeti non aveva per gesù una valenza politica non era cioè lo stato giudaico autonomo in cui riponevano le loro speranze molte sette religiose ebraiche del tempo il regno di dio non era una realtà terrena ma spirituale era il regno dei cieli nel quale era possibile entrare solo dopo aver compiuto un percorso di rigenerazione e di trasformazione morale e spirituale sulla terra realizzare il regno di dio in terra comportava quindi per gesù una scelta radicale di rinnovamento interiore egli poneva al centro del suo insegnamento l'amore verso tutti deboli e forti ricchi e poveri amici e nemici in netta contrapposizione rispetto all'orientamento dominante nella mentalità dell'impero romano basato sull'uso del potere e del comando in un mondo fondato sull'uso della forza gesù condannava la violenza in ogni sua forma dalla guerra agli spettacoli nel circo egli riconosceva in dio l'unica autorità l'unico signore punto di riferimento morale e spirituale per l'umanità in una società profondamente materialista e fondata sul culto del successo e della ricchezza egli predicava il disprezzo per il denaro e per gli onori condannava la schiavitù prometteva la vita eterna dopo la morte una speranza che faceva breccia in molte persone in particolare tra le più povere svantaggiate ed escluse infine gesù affermava che tutti gli uomini erano uguali nell'amore di dio anche le donne e gli schiavi che la mentalità antica considerava inferiori